Il Governo regionale, su proposta dell'assessore all'istruzione Roberto Lagalla, ha autorizzato l'anticipazione di 15 milioni di euro per il pagamento del fondo di garanzia agli operatori della formazione professionale. La misura, prevista dalla legge di stabilità regionale, avrebbe dovuto seguire i tempi di rimodulazione delle risorse extra-regionali, che finanziano la stessa legge di stabilità. Poiché tale circostanza avrebbe generato ulteriori ritardi nel trasferimento di risorse a un settore da anni in stato di grave difficoltà, la Giunta ha operato un anticipato prelevamento da fondi nella disponibilità dell'assessorato al lavoro e che a quest'ultimo saranno restituiti dal Dipartimento della Formazione Professionale nelle prossime settimane. Grazie alla disponibilità del Presidente Musumeci e della Giunta, non che alla particolare sensibilità dimostrata dall'assessore Antonio Scavone, si è sbloccata una situazione giacente e incancrenita da tanti anni alla quale il Governo Musumeci, apposto sin dal suo insediamento particolare attenzione, ha spiegato l'assessore Lagalla, è stata ricercata collegialmente trovata una soluzione tecnica che ha consentito, con il fondamentale contributo dell'assessore al lavoro, di fornire accelerate risposte al comparto della formazione professionale ed in particolare a quella parte di lavoratori che anche dopo la ripresa delle attività formative sono rimasti esclusi da un rientro occupazionale che ha interessato ben oltre la metà degli operatori iscritti all'albo professionale di settore.